Ma che cresca in Kleider va bene, bisogna che cresca altrettanto in Italia e in Europa dove invece ci sono dei punti di debolezza, da questo punto di vista bisogna che investa e che torni ad essere competitiva sia in termini di modello sia in termini di produttività negli stabilimenti italiani.